Bene a tutti ragazzi e siamo al secondo episodio Sì signori andiamo subito a fare la stessa cosa fatta dalle sere e vi sorteggiamo subito 3, 2, 1 via Vercelli, i grandi Vercelli, meglio del... Vercelli Vercelli contropasta Vabbè guardate se guardiamo le statistiche mi sembra che non so più di bravo Era una spottola No no Calma Pioggia 6 minuti in codo No no la tua già la devi levare Perchè se c'è capitata la pianta E ti metti 5 minuti Lo segna Dari Io la do io se segno Luca Non do mai guardi Andreeee Iniesta Questi sono i cucchiai di vino I cucchiai della verità Dai smuoviti coglionello ti pare che sono uomente Dai io sono abituato Guarda sai No 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 Senti Ah no 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 Non muore Guarda che niente Aspetta Passiamo qua Ok Guarda qua La forza con la quale E' pronto? Ti amo Davide Ti preoccupava un po' Devi fare vedere quindi vedi entrate questo Guarda tu ti legge il culo No o si Non c'è Noo malissimo Che ben sedere Nooo Nooo No 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 Non c'ho sentito da ora Dai dai Non ti preoccupare Tutti ci siamo passati Tutti ci siamo passati il cazzo 2 1 Ai Nooo Sì! No! 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 Non può essere così, eh? Paccato, minchia, da un passo aveva frustato da Davide. Dai, metti là dentro. Leo, Lion. Ma che vedi? Perché io... Sette delle merde, piccio. Sette merdos... Il Lion già ne avrebbe fatti quattro. Dice Davide, ora tutti i bimbi minchia sui commenti. Eh, ma il più forte è me. Sì, sì, ma metti là dentro, Andrea. Ciao, ciao. E niente, ciao. Va bene, va bene, ci può stare. Diciannovesimo due gol. Bene, bene, direi che per il novantesimo facciamo un nove. E allora, signori, guardate Dario la sua frustazione, la sua felicità. E allora, ma Dario, non fare così. Non ti ho fatto niente prima, non ti preoccupare. Guarda che salgera alto, ecco. Molto. Adesso, quello che bisogna fare è così, giusto? Sì. Io sicuro. No, no, prima c'è uno e due. Ah, perfetto. Perché io... Questa è la della piccola. Signore, una della grossa. Dai, non si mette. E uno, e due, e tre. Aia, aia, con legno. Con legno. Con legno. Non ho fatto niente. Aia, puttana. Sono troppo buono. Bene, bene. Dai, cazzo, superalo. Dai che arrivi al novantesimo morto. Non ce la deve fare, non deve vivere. Vai, il passo! Ficco buono. Non dimentica. No, 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 no! No, 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 no! Aia! Dai! Basta! Basta! Questa malissimo! Cos'è che passa? Dovrei subire i doppi! Non riesco a superarlo! Non riesco a superarlo! Troppo stasso! Basta che supera lui che non ha posto! Perché guarda qua il gioco è basso! Un po' forti! E faccio il gol! C'è... Il... Goal! Ho preso il col... Ah, devo salire da quell'altro! E' meglio secondo te guarda, secondo te sinceramente Vieni da questa parte o da questa? Dai che cos'è questa sconsolazione? Aia! Nooo finchia! Ahah! E lo so! Ero bravato! Ero bravato! Ero bravato! Tra la ventidette! Non lo posso ammazzare! Questo muore a fine parte! Dovano capirlo! I ragazzi non lo posso ammazzare! Ero bravato! Uro bravato! Tega la ventidette! Una ventidette! Non lo posso ammazzare! Come ti prenderai... ...velex! 25 gol! Mi prendo 25 gol! a me cosa sarà mai te li ricordo ma come si può non ti preoccupare tu te lascia stare no, è vera la stessa gabbana cambiamo, se tu non ti giri verso l'altra non fa niente no, fa male non mi posso sedere no, è vera ora, resta in gabbana fa giri Pedro, Pedro, Pedro e vedrai che in culo te la troverai tanto risentiamo a me su dei ridi perché la vita è bella, 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 bella allora andiamo con il sesto gol in 30 minuti quindi 90 minuti diciamo 18 gol no, compa, cosa sarà mai di tutto gol io non posso camminare più eh, vabbè, tanto vera sei in vacanza no, devo fare quello così no, compa, quello fa male ma non devo fare piano, ti prego, devo prendere 18 vabbè, quello è un calco, penso a me magari sono 28 esatto allora, te ne do meno di 10 non è bene vedo 3 di queste consecutive si no la gamba la gamba la gamba, insomma senti appena ci sarà quella doppia ci diretti eh, lo so tutto dipende da questa manca ma guarda guarda a me no no non è perchè non sono tutti e da questo ragazza aiutate dai 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 sono andata a ottenere le difficoltà un sacco no no non ma c'è bene L'AIO DEL L'AIO DEL questo è quando c'è un campione a ok era consecutiva adesso qual è c'era? qual è l'insieme? perché come ogni 3 si inizia ah! non ti preoccupare non fai così dai la sette a scivolare il chiamato un po' eh eh è giusto vedete se la ride pensa a sfide, piange se è sentito vogliamo l'ottavo ragazzi siete a me se state guardando l'ottavo con Messi Messi tira Messi quanto finocchio è Messi allora signori se non mi segna wow è una merda e poi vince, vuole vincere il pallone d'oro tu vincirà, vincirà vincirà e bravo Messi allora Messi allora e bravo Messi allora basta basta si vede signore nooo ti sei ti ho toccato quindi di nuovo da capo uno questo ricordo questo o questo? schifo e due ti fa uccidere la gente non posso saltarmi più no ti sei guarda che sta pure fermo non ti butto non ti ho scisso Messi non lo vinci non lo vinci non lo vinci che scazzo ma come si fa per rossi io mi sono spaccato la vita per ricevere te qua poi se li mangia anche il Barca potrebbe mettere un altro non è che è impossibile guarda qua dai dai c'è pure a culo spagna tutto coglione che vuoi io ho preso sono che sei che poi compaio Ronaldo e stai facendo schifo eh Ronaldo ha 61 di potenziale ma è l'amico di il peccetto scorso peccetto scorso di Ronaldo no aspetta come era? quello che mi sono tiro ma questo in verità bisogna saperlo fare che io non lo so lo piano perchè tanto ancora ne devo prendo un bordello quando mi hai finito quando deve si decida ah finchè io non vedo che tu non scatti io non credo dai mi sto fermo dai mi sto fermo sono frustate sono frustate non sono mi chiami soltanto con la frusta tipo le cose sataniche mi chiami la viola è la madonna 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 io che tu devo fare è un po' salto e tu dici ne vuoi altri e diamo te ne altri ma tu sei tu che vivo adesso da seduto aspetta devo venire a scorreggiare che schifo si muovi ragazzi accenna non c'è che cosa vuoi hanno buttato un pillido è bagno schiuma è finito ormai è la è la è la è la mi sono salvato tutto questo sfogo perchè se io lo facevo durante la partita quello mi dicava è una cosa buona comunque ragazzi se il video vi è piaciuto spolliciate condividete lasciate un like commentate si ragazzi ci interessano di più i commenti per il fatto che dobbiamo fare sfide ragazzi perchè quelle sono quelle che mandano avanti il canale comunque ci vediamo alla prossima ciao buon natale ragazzi buon natale ciao 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 ciao